Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, ecco qua il mio nuovo interattivo, un classico proprio degli interattivi che appunto è cosa pensa, cosa prova, cosa farà una data persona che avete nel vostro cuore, nella vostra testa, nei vostri pensieri. Allora io farò questo metodo con le sibilline e chiacchierine, quindi farò dei mazzettini dove andrò appunto a vedere questa persona cosa pensa, cosa prova, cosa farà, cosa pensa, cosa prova, cosa farà la persona che state pensando, voi tutti che siete sintonizzati in questo momento. Quindi, cosa pensa, cosa prova, cosa farà, cosa pensa, cosa prova e cosa farà. Ancora, prenderemo anche una carta dei tarocchi, anzi ne prenderemo due, due carte dei tarocchi e andiamo a vedere cosa pensa, cosa prova, cosa farà, cosa pensa, cosa prova e cosa farà. E infine prenderemo anche una carta delle mie carte gialle di Zaira, quindi andremo a vedere cosa pensa, cosa prova, cosa prova e cosa farà. Ecco qua pronti i nostri mazzetti e andiamo a vedere intanto questa persona che cosa pensa. pensa che vi ama, che ha un affetto per voi, pensa che vorrebbe che nascesse un progetto, un qualcosa, è luggimirante, vedete, c'ha l'ambizione di volere nuovamente in qualche modo avere a che fare con voi. pensa che c'è stato un blocco, quindi qua c'è stato un blocco, vedete, a questi incontri e vorrebbe il capovolgimento completo di questa persona. Quindi pensa questo e pensa anche che ha una vita complicata che evidentemente non gli consente forse di realizzare questo che lui pensa. Quindi il pensiero di questa persona nei vostri riguardi è un pensiero di lungimiranza, di ambizione, vedete, questo vi osserva da lontano, vorrebbe nuovamente la nascita, la crescita di un progetto, quindi vorrebbe nuovamente venire da voi vedete, perché ha un affetto ricambiato e qua c'è l'amante che vi fa la serenata, quindi c'è un capovolgimento a te, a te, insperato di una situazione di blocco che c'è stata, magari c'è ancora però quello che pensa è la gioia, il piacere, la festa di stare con voi e pensa anche che lui ha una vita complicata. Vediamo un po' che cosa prova questa persona. Allora, abbiamo la donna di servizio, abbiamo il gran signore e il sacerdote cinque di bastoni, quattro di denari ho capito di amarti quanto ti ho perso quindi questa persona che cosa pensa? Scusate, che cosa prova? Beh, prova, prova amore qua, vedete, lui sa che vedete che voi siete una donna che avete avuto cura di lui che siete stata una donna che lo avete accudito gli avete anche, come dire, cercato le sue necessità di colmare le sue necessità in tutti i campi che sia campo proprio fattivo di accudimento a casa fargli da mangiare oppure aiutarlo nei consigli, nei suggerimenti comunque voi siete stata una donna di cui lui adesso non può più fare a meno questo ovviamente abbiamo qua un gran signore una persona molto affascinante vedete, guarda verso di voi quindi è molto attratto da voi e sicuramente ha avuto modo di riflettere di chiudersi in sé stesso di realizzare con questo 5 di bastoni che ha creato delle situazioni con voi che hanno fatto sì che evidentemente venisse questo blocco quindi sa di essere l'artefice di aver rovinato questa bella storia con i suoi conflitti con i suoi combattimenti con quello che ha combinato e soprattutto sa di non avervi dato totalmente quella stabilità, quella sicurezza quella fortuna nei rapporti che voi meritavate però adesso ha capito di amarti perché dice ho capito di amarti quando ti ho perso quindi questa persona che cosa prova? prova per voi amore vediamo cosa farà allora facciamo un pochino di spazio se riesco a mettere anche le altre carte allora qui intanto abbiamo il cupido quindi qua ottime notizie perché che farà la freccia del cupido? abbiamo l'ammalato e abbiamo la gran consolazione quindi questa persona cosa farà? beh, dopo un momento veramente di malessere infatti questo ha capito di amarvi quando vi ha persa quindi qua è stato veramente male e finalmente vuole la soddisfazione raggiunta dopo tanto tempo guardate ragazze mamma mia che viene fuori qua il 6 di bastoni e il 2 di coppe ma quale saranno le sue azioni? di tornare assolutamente verso di voi vedete c'è proprio la carta del ritorno il 6 di bastoni torna vuole una vittoria con voi perché qua c'è un grande amore vedete amore, rapporto d'amore affinità elettiva amore ricambiato e qua la carta sul suo ritorno dice in questo silenzio ho capito tante cose quindi questa persona in questo allontanamento qua c'è stato veramente proprio un bel, diciamo questo blocco ha portato un bellissimo risultato ragazze veramente molto bello perché come vedete dalle carte sto cercando di inquadrarle tutte veramente una stesa superlativa quindi questa persona cosa pensa? pensa di voler nuovamente con voi incontrarvi la nascita è lungimirante vi guarda, vi sorveglia è innamorato anche se c'è una vita complicata ha capito di amarvi quando vi ha perso e sa di essere stato lui l'artefice di questa diciamo tra virgolette perdita che cosa vuole fare nei vostri confronti il cupido è la gran consolazione dopo un momento di proprio di salute problemi di salute di gravità non chiara nel senso proprio interiore dopo essere stato male ha capito quello che prova per voi l'amore proprio adesso sboccia e in questo silenzio ho capito tante cose tra le cose che ha capito che vuole ritornare da voi abbiamo il 6 di bastoni che ci parla proprio di una persona che viene da lontano vedete lui viene per una vittoria viene per riconquistarvi e ci sono delle buone prospettive questa persona forse in passato altre volte si sarà comportato in questo modo però io vi assicuro che questa volta torna e torna molto cambiato quindi può sembrare una di quelle varianti che dici voi mi scrivete sì ma questo fa sempre la stessa cosa vi ricordo ragazze ragazzi voi tutti che mi seguite anche se si somigliano il finale non può essere uguale per tutti ognuno di noi ha un'energia a sé quindi magari ci sono delle somiglianze con altre tipologie di personaggi che escono fuori da questi da questi interattivi ma questo qua anche se in passato diciamo non è che è stato comunque si è dato da fare in qualche modo a rompere questo rapporto con voi ma adesso torna veramente cambiato ecco questo è uno dei casi in cui torna cambiato abbiamo le carte giuste va bene care io vi ringrazio di essere stati con me vi mando un abbraccio di luce e vi do appuntamento agli altri miei interattivi ciao ciao